Qualche mese fa è nato il progetto PMR, un progetto a livello nazionale che incentiva l'uso delle ricetrasmittenti 446, PMR 446 di libero utilizzo. Oggi sono a parlarvi di un evento a dir poco fantastico, ovvero l'attivazione del rifugio Regina Margherita. È una vera e propria spedizione e tra poco vi dico di cosa si tratta. Intanto ringrazio Lorenzo, uno LOM029 che ci dà la possibilità di fare questa cosa, si tratta di una vera e propria spedizione di questo ragazzo che va al rifugio Regina Margherita, è un rifugio pensate il più alto d'Europa a 4554 metri sul Monte Rosa e non è una cosa da tutti perché non è una semplice passeggiata ma dobbiamo avere un allenamento perché a quelle altezze l'aria è un po' rarefatta insomma bisogna essere allenati per riuscire a fare una cosa del genere. Quindi grazie a Lorenzo che porta con sé un paio di radio riusciamo ad attivare, a fare collegamento o almeno a cercare di fare collegamenti dal rifugio Regina Margherita che si trova appunto a 4554 metri. Oggi sono a presentarvi questo evento fantastico a mio parere e volevo anche ringraziare innanzitutto Angelo De Melas perché con i suoi video ci tiene costantemente aggiornati su quanto riguarda tutto questo diciamo procedimento di attivazione in più mi invito a seguire il sito www.progettopmr.org che lì ci trovate tutte ragazzi le informazioni riguardo il progetto PMR e più c'è una sezione dedicata proprio a questo evento del Regina Margherita che si terrà l'11 giugno. Ora l'11 giugno Lorenzo andrà lassù meteo permettendo, condizioni meteo permettendo, neve permettendo e tutto quanto ad oggi che sto registrando il video che è l'8 di giugno dovrebbe andarci tranquillamente se non cambiano le condizioni meteo attuali quindi 11 giugno. Comunque se cambia orario cambia qualcosa sul sito ci sono tutte le informazioni. Io ringraziando Lorenzo per averci dato questa possibilità perché sapete bene che a 4554 metri portare una PMR e cercare di fare qualche collegamento a nome del progetto è una cosa veramente importante e interessante. Lorenzo farà un log che verrà poi pubblicato su Mapforam anche perché su Mapforam poi ci sarà il diploma dedicato per chi riuscirà a contattare Lorenzo potrà scaricarsi un diploma proprio fatto a per l'attivazione del rifugio Regina Margherita e oggi voglio parlarvi oltre che di questo che ha già fatto un video Angelo quindi non sto a ripetere le solite cose che dice lui perché vi ripeto vi linko il il suo video potete benissimo capire di cosa si tratta perché lui lo spiega veramente nel dettaglio e lo spiega veramente bene oggi sono a dire che a nome del progetto ho deciso di regalare al rifugio Regina Margherita qualcosa perché mi sembra carino che a nome del progetto gli venga regalato qualcosa. Allora abbiamo deciso di fare un cappellino vedete che sono i gadget che trovate su Stickerland e vi lascio il link qua sotto in descrizione video se volete acquistare gadget del del progetto ho fatto fare un cappellino personalizzato non so se riuscite a vedere del Regina Margherita un cappellino azzurro perché azzurro azzurro come il cielo perché la su ragazzi ci sono delle foto veramente belle di giornate assolate che senza neanche una nuvole meglio quella nuvole ma sono più basse del rifugio e un cielo è veramente veramente azzurro quindi la pece del progetto PMR con scritto appunto capanna Margherita in più una pece vedete sempre del progetto PMR con scritto capanna Margherita più qualche gadget adesivo che ringrazio Diego scusate ringrazio Giovannino per averci regalato questi adesivi quindi sono fatto fare questo gadget da rilasciare proprio al rifugio Regina Margherita spero lo gradiranno in più ragazzi siccome si tratta di una spedizione per quanto riguarda il progetto PMR ho deciso di regalare delle radio che ho della retevis e delle PMR che vi faccio vedere ma comunque queste trovate anche la recensione sul mio canale che ve l'ho recensite un po' di tempo fa ho deciso di regalare al rifugio questi due radio della retevis più precisamente vi dico anche il modello sono il modello RB 628 628 sono PMR che sono praticamente nuove io l'ho usato una volta soltanto una una ha sempre la batteria in cellofanata chiusa quindi sono radio praticamente nuove sono solamente aperte per fare la recensione e provare a fare qualche collegamento con una di esse e funziona veramente bene quindi abbiamo deciso di regalargli queste due radio PMR ora queste queste radio questi gadget le spedirò naturalmente a Lorenzo e Lorenzo vediamo un po' come riesce a portarli su perché naturalmente sentendo Lorenzo lui naturalmente mi ha detto che non può portarsi su tanta roba perché avendo facendo una spedizione del genere gli zaini sono pesati proprio al grammo e portarsi dietro due radio leggeri ma comunque frattuto caricabatterie due radio un 150 grammi pesano risulta difficoltoso mentre il cappellino riuscirà forse a portarlo e le radio vediamo un po' come fargliele arrivare comunque tutto questo pacchetto lo spedirò a Lorenzo sperando che al più presto possa tornare su magari una seconda o terza volta chissà quindi rimanete aggiornati guardando il progetto PMR il sito e chissà che possa portare su tutta questa questa roba donandola al regina Margherita abbiamo fatto anche una cosa importante una raccolta fondi che trovate linkata qua sotto in descrizione video un go found me per quanto riguarda la spedizione regina Margherita abbiamo fatto questa raccolta fondi per aiutare Lorenzo a tornare una seconda volta perché Lorenzo ci ha detto che può tornare anche altre volte o almeno un'altra volta sicuramente a nome del progetto vero e proprio cosa vuol dire mentre questa volta va su diciamo fra virgolette per i fatti suoi e ci dedica ringraziandolo un paio d'ore al progetto PMR lui è disposto a tornare su e fare per noi un'attivazione di due giorni interi quindi dalla mattina alla sera alla notte fino al giorno dopo riguardante il progetto PMR facendo collegamenti portarsi magari su più radio portarsi su magari anche un CB portarsi su insomma un po di attrezzatura per fare l'attivazione poi quella vera e propria però naturalmente lui non è in grado e non se la sente giustamente di prendersi tutte le spese per conto suo noi come progetto PMR non abbiamo fondi da poter dare a Lorenzo c'è sul sito il paypal che serve per il sito e serve anche per queste cose qua però poi abbiamo aperto questa raccolta fondi perché chi volesse contribuire e spero che lo facciate il più possibile a questa insomma per aiutare Lorenzo più che altro ad arrivare lassù e fare queste due giorni di attività radio se riusciamo a prendere un bel gruzzoletto possiamo mandarlo su invece che a piedi magari in elicottero a un costo diciamo di qualche migliaia d'ero mi sembra due o tre mila ci ha pensato mangela questa cosa quindi io pensi purtroppo non le so comunque Lorenzo vorrebbe dormire lassù e dedicare vi ripeto un paio di giorni o almeno un giorno e mezzo solamente al progetto PMR facendo attività in radio quindi chi volesse contribuire noi l'abbiamo già fatto e chi volesse contribuire a questa donazione insomma vi lancio il link in descrizione video bene ragazzi quindi che dire rimanete sintonizzati sia iscrivendovi al canale perché io se appena c'è una novità ve la dico o in uno short video oppure faccio un video dedicato e comunque iscrivetevi al progetto PMR su www.progettopmr.org se volete far parte anche del progetto vi invito ad iscrivervi poi a canali telegram regionali vi verrà dato un nominativo fittizio non è ministeriale e insomma per riconoscerci insomma e per fare attività radio vi aspetto numerosi ragazzi io intanto vado a confezionare questa cosa perché devo spedirla più presto a Lorenzo quindi ragazzi trovate tutti i link in descrizione video io vi dico soltanto quando ci saranno queste attivazioni provate uscite sul terrazzo uscite in strada provate a contattare Lorenzo perché è un evento veramente importante eccezionale che forse siamo i primi al mondo forse ma quasi sicuramente i primi al mondo a fare una cosa del genere ragazzi che dire un bel like se questo video vi è piaciuto iscrivetevi al canale per supportarmi gratuitamente e poi trovate comunque tutti i link in descrizione video ragazzi ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi